La FIGC Campagna ha stabilito che il 13 febbraio sarà la data del recupero della 17esima giornata del girone B di eccellenza prevista per il 6 gennaio con le 8 gare annullate dopo l'emergenza neve che ha caratterizzato lo scorso weekend. Dunque il recupero del secondo turno del girone di ritorno sarà mercoledì 13 febbraio. In campo l'Agropoli Capolissa che sfiderà in trasferta all'Audax Cervinare e la Battipagliese impegnata nella gara interna contro il Valdiano. Intanto in questo fine settimana si giocano regolarmente tutte le gare. Si recupereranno invece sempre il 13 febbraio anche Volce Buccino Poseidon di promozione e Gregoriana Postiglione in prima categoria.